In un mondo in continua evoluzione, i bisogni dei nostri clienti cambiano velocemente e noi siamo pronti ad accogliere insieme le sfide della transizione digitale. Nasce Bapr Hub, un ecosistema digitale dove l'innovazione incontra l'eccellenza. Una rete dinamica di partner selezionati per creare nuove opportunità e instaurare nuove relazioni. Basta un clic per accedere tramite il tuo Internet Banking a Bapr Hub. Una piattaforma semplice, efficiente e veloce, in cui puoi trovare servizi a condizioni vantaggiose per te e la tua impresa. Soluzioni personalizzate, nuove idee e prodotti innovativi. Bapr Hub, un mare di opportunità a disposizione per te.